ciao a tutti ragazzi e bentornati su fear games per fare le cubo lucky block oggi sono qui con metano 007 allora ragazzi voi direte ma jaco dov'è jaco è in vacanza è a fare il bagno è a mangiare è a divertirsi la bella vita sta facendo quindi non preoccupatevi tornerà ancora sui nostri canali iniziamo questa cubo e via ed eccoci ragazzi in partita allora io sono il rosso tu che sei il giallo da giallo se canta al verde vero sì quindi al viola e basta verde viola e guarda se trovo subito le cosettine buone guarda faccio subito un salto da te grazie grazie metano umano proprio amico grande amico hashtag vero amico sì sì amico vero vai lì vai dentro lì ecco allora io ho un bordero di diamanti o i picconi o tutto e io sono sempre incastrato nelle ragnatele praticamente ho un ender pearl perché così perché me la danno ogni tot e non ho nient'altro allora io lasci andare o la mela oppi vai anch'io che bello siamo fratelli di mela sì no i melati siamo sì allora io provo devo scendere giù sotto per vedere di bardare un posto nucleo perché messo così no ma questa è la spada dai no metano non ho la spada io non ho la spada dai metano fai il bravo non nemmeno l'armatura e poi non è niente cos'è che è rimasto però però in compenso il piccone con sic touch tantissimi tnt interessante e beh sicuramente sì quello adesso proviamo a uccidere un po qua uh questo qua lo lascio qua oh perfetto spero che non venga a trovarmi ma no è uscito il ragno del fuoco preferivo di no dovevi stare giù sotto sì ci credo sono attaccato quando c'aveva il buco nell'isola ma che sfigaccio ci sei finito dentro di ma tantissimo poi è tutto tattico silenzioso e poi mi becco il buco ma allora se io adesso trovassi ed eventualmente il piccone sarei un uomo felice felicio chiunque sarebbe felice con un piccone però per il momento di picconi non se ne vedono ho trovato il mover ho trovato il creeper esplosivo il terrorista tutti gli amici del del terrorista comunque non è male ecco insomma ho trovato dell'altra ossidiana che potrei utilizzare ora ora non so per fare che cosa ma possiamo provarci ma io non ho una spada no a parte che me la posso anche crattare volendo ma non non mi ci va da sopra non possono entrare da sotto sicuramente un altro terrorista basta e quanti hai la collezione cosa non so si si vede che hanno la riunione ci sta cos'è che sti stivali chi è che è morto non io e frax il bianco è stato eliminato ok mi sta attaccando mi sta attaccando il tipo aiaiai metano aiai metano non so chi muore prima non so chi muore prima forse muoio prima io è lo dito io ho trovato un altro terrorista nel frattempo c'è la probabilità di avere un piccone qual è una su un milione e faccio prima a vincere la lotteria è il creeper anche scoppia l'ho ucciso l'ho ucciso non avevo vita io forse mi è rimasto un altro diamante a me veramente barda 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 m27 mi sa che è preciso il diamante no 22 il diamante forse ti ha lasciato davvero così poi se trovassi anche il piccone che magari adesso avrò dentro nel adesso guarda se non ce l'ho dentro nella nell'inventario aspetta che uccido un po di slime tanto stanno morendo tutti raga chi è che mi sta uccidendo di nuovo chi è costui ma ancora qua sei è 91 di vita cioè io sono messo male è altro che si vedo vedo allora io non riesco a fare i pillar lo sai eh ma guarda anche a me creava problemi con i pillar no no c'è uno da me ma ne sono morto mi sa no da di già guarda che se mi rimetti lo do un piccone no devo farcela con le mie forze con la mia fortuna praticamente perché ok adesso facciamo sto piccone e che sia la fine top adesso vendetta tremenda vendetta vado dal viola ok sono qua no dio mio non c'ho più blocchi c'ho più nulla man ma non da questo ma il terzo gode scende no nella lava no la melopi prova la melopi no sono caduto nella lava proprio più profonda dove sono finito vabbè se hai messo la melopi come cosa fai? che è successo? cosa ha messo questo? ma non può aver messo tutta sta roba ma raga cosa state facendo? ma cosa ha messo scusa? non lo so ha messo quintali di lava io non capisco più niente qua cosa sta combinando? ma un bel destracco addosso no? ma non lo so non si capisce più niente ho la melopi quindi dai 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 vabbè a me non ci muore disastro cioè non si capirà niente da sta partita ma cosa ha fatto? ha messo quintali di lava ma cosa sta facendo? ma cosa sta facendo? ah ma io non so quale c'è al viola a dire il vero penso sia eh vabbè dall'altra parte della mappa ciao proprio ciao adesso io sono intorno alla sua lava non puoi uccidermi c'ho la melopi ok no non puoi ah mi ha ucciso eh sì dopo un po' ti uccidi lo stesso è stata una lotta assurda è stata no perché ero anche infuocato con la lava io adesso vado dal verde è stata una lotta assurda adesso mi uccideranno ma cosa ha combinato? l'hai visto sotto? l'ho ucciso bene se ci vai l'ho tirato dextracto l'ho uccidere sono andato a vedere cosa aveva e cosa non aveva anche questo? no questo ha fatto un buco con la lava sotto si vabbè ma guarda io non è che sono da meno devo capire dove devo andare dal viola perché c'ha i blocchi lì però non capisco dove no c'erano tutti esposti a tutti dove sono dall'alto? si vabbè dall'alto li vedi appena ci vai comunque non li vedo però mi stanno uccidendo mi stanno uccidendo mi stanno uccidendo metano e sono caduto nella lava ancora è una trappola questa qua del viola ma a me non sembrava così difficile sinceramente io vado dal verde però tanto non ce la farò il verde fidati anche peggio si? il verde il verde ha tutta la vita non è che sia difficile uccidere però tipo c'ha di tutto lui veramente nella sua isola quindi per quello è un po' un problema io non trovo l'ossidiana è questa la cosa che mi preoccupa se avessi l'ossidiana riuscirei a fare qualcosa ma senza l'ossidiana non posso fare nulla capito? mi attaccherà all'infinito questo qua ah ma perché ha ribardato tutto tec chi? eh lo so che ha ribardato tutto ma non ci arriverò mai dentro lì guarda che disastro facci ora aspetta allontanati allontanati adesso proviamo così me l'ho p te l'hai dietro me l'ho p dov'è? comunque ti può uccidere ok c'è dall'altra parte i blocchi dai no l'ho preso l'ho preso l'ho preso lo sto prendendo l'hai fatta? no manca uno forse uno due sono caduto nella lava uno a tre di vita gliene manca uno niente non ce la faccio sono caduto nell'impossibile cioè la lotta infinita la lotta infinita con il viola adesso voglio che venga qua non lo trovo il blocco dove caspita sarà sto blocco man era in vista erano tutti accanto ti ricordo non lo vedo gli ultimi due era lì accanto eh lo so che era lì accanto devi guardarlo dall'altro lato per vederli non devi essere dove eri te adesso vado giù devo farlo cadere devo farlo cadere se cade è finito dov'è dov'è l'ultimo blocco dove è sto ultimo blocco c'è l'ossidiana qua dov'è l'ultimo blocco dov'è dovete cadere giù ma quanti siamo qua così cattivo proprio ma quanti siamo siamo in due contro uno come due contro uno cosa credi ho sette enderperle ancora verrò lì fino alla fine guarda secondo me non è il più difficile è un casino l'ossidiana non è ovunque però lui ti uccide in due colpi perché c'è tipo una spara che è potentissima c'è un'armatura che non è niente male e quindi dei ciao a tutti ho capito ed è un grosso problema ci proviamo cosa ti devo dire metano è là sopra tu dove sei? ma no sono tutti da lui io sono da lui io uso la mia tattica ok no ma lui mi aspetta qui mi aspetta qui è furbo questo è il problema è che è furbo ho finito la enderperle non c'è più nulla ah oddio però con lo stecchino riesco a fare le cose riesco perlomeno a tenerlo distante ottima cosa l'ho rotto un po' l'ho rotto un po' l'ho rotto un po' ma vedi cioè è impossibile bisogna attaccarlo cosa ti devo dire no anche l'arco non ci credo eh vabbè eh vabbè 79 di vita eh le ho rotto due blocchi le ho rotto forse due o tre blocchi le ho rotti questa qui è una cosa ardua molto ardua e vabbè ci proviamo serve una tattica si serve una tattica perché serve che abbiamo le cose OP ti faccio sbagliare tutte le frecce non ne avrà tantissime oddio in certi casi mi fa avere veramente tante no uh se mi buttava di sotto se mi buttava di sotto dov'è eccolo qui dai fai fai che io sto rompendolo dai mori 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 solo che io sono messo male qua c'ho lo stecchino c'ho lo stecchino mi sta per uccidere mi ha ucciso ma almeno un po' di vita in meno ce l'ha si 4-5 blocchi li ho tolto ancora però c'è lui c'è tutta la vera che sta nella sua isola a spaccare cioè a piazzare i blocchi ha fatto il devasto ha fatto si ha fatto il devasto veramente meno male che sono pieno di ossidiana io non ci faccio nulla no io non ce l'ho pensa te la vuoi? no no io ho una tattica sarebbe ho paura a dirtela no man non voglio dirtela però però è fattibile si? però è fattibile quale sarebbe la tattica? man è la cosa più lezza che ti abbiamo visto in tutta la tua vita si? quindi non te lo voglio dire va bene non dirmela allora ma tu sei nella tua isola o sei in quella del team? sono nella mia nella mia sto cercando di bardare un po' in un momento questo io non ho bardato nulla quindi cioè se ti proviene da me è la fine eh vabbè ho bardato veramente poco io e anche io non è che sia bellissima la mia bardatura anzi è abbastanza lezza però è quello che sono riuscito a fare con quello che avevo ok devo provare a ucciderlo ora devo ucciderlo assolutamente tipo eccolo qui eccolo qui eccolo qui era invisibile addirittura era invisibile eh ma cos'ha tutto ha comprato è riuscito a trovare tutto incredibile è invisibile e la mia ora il mio piano malefico salta pure si perché se il mio piano malefico dovevo uccidere il mio piano malefico eh se non lo uccidano non funziona non funzionerà mai no non ci credo non funzionerà mai almeno che non se n'è accorto ne di cosa se non se n'è accorto ma non te lo posso dire ok si si perfetto sono sceso io sono sceso io sono sceso da lui mi sta uccidendo no dobbiamo ucciderlo eh lo sto uccidendo ma lui due colpi mi fa fuori capito di vita di vita ecco ce l'ho fatta ce l'ho fatta e quindi funzionerà malefico spuona nella lava davvero si no metano non è possibile vai via metano scusa io lo tengo un po' occupato è finito metano non si può fare così metano lezzissimo proprio dai ma scusa questa partita qui quanto dura? 40 minuti? non lo so nella sua isola non lo so non lo so non lo voglio sapere neanche quanto dura sta partita io ho finito tutte le cose che avevo se non vuoi dire ho finito tutto ciò che avevo si non ho più nulla sono triste davvero metano tec tec mi deludi? no tec tec non posso nemmeno salire faccio il pillar di ossidiana dai come il pillar di ossidiana no 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 vai giù vai giù vai giù vai giù vai giù vai giù ok lo sai che non è bardato il mio nucleo? tanto sono morto è bardato soltanto sopra te lo dico tanto sono morto comunque non siamo rimasti soltanto noi due come no? eh no ah c'è il nero dov'è? eh non lo so ma no dai non è possibile è morto ora ma come è morto ora? infatti io non sapevo se riteorare il titolo no è a 100 oh mio dio a 100 ma dov'è? allora aspetta vado dal viola e dal viola vado da lui dici? si ah ho capito aspetta aspetta se vuole tippare da me probabilmente lascialo venire si 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 tu dimmi quando si è tippato che vado là se altre handelper vuole venire si ma no non verrà non verrà vado a provare a andare nella sua isola a sto punto se vuoi ah beh ha fatto un coso di ossidiana si è tippato dal bianco si è tippato dal bianco vado vado allora vado dentro e mi chiudo vai vai allora aspetta c'ho l'ossidiana anche io si ma quanta è una messa di ossidiana? no si è appena tippato nella mia isola ok ah no è morto è morto no così adesso arriva qua non riesco a rompere l'ossidiana in tempo però quando c'hai l'ossidiana lì la devi rompere vai sotto non stare sopra si si no sono sopra perché è meglio è meglio secondo me ecco mi ha trovato mi ha trovato mi ha ammazzato da sotto da sotto non ti vedeva fidati si dio mio i slime allora ma guarda che malloppo che ha fatto di ossidiana sì no guarda che allucinante ok arco del tp ok sono sotto di lui ecco mi ha visto come ti ha visto? eh non so è sceso mi ha visto perché ho dovuto prendere i blocchi e mi ha visto ah eh vabbè lì c'è stato un po' un errore a questo punto così è inutile che mi rompi tanto c'ho la mela OP se va bene lo uso contro di lui se ti va male lo uccidi te io lo uso contro di te il dextacto come? eh prima devo trovarlo però ah ok no l'avrai già sicuramente metano no non ce l'ho devo trovarlo ancora sto scavando nella mia isola sto tentando di tutto sto tentando di tutto metano eh man mi fa piacere mi fa piacere io sto provando a fare cose che vanno oltre i limiti umani eh dillo a me provare il destratto cioè ho la melopi ma non mi durerà l'infinito anzi mi sta per ammazzare adesso ok vabbè se ne vuoi una salgo col suo diamante fai te cos'ha? ho son salito col suo diamante ah col suo diamante è la madonna sai che è tipo una cosa da tipo shaky ma Bob mi ha ucciso ma che schifo Bob dov'è? no ancora cadi nella lava cadi nella lava cadi nella lava cadi nella lava ok è caduto nella lava che fatica che fatica io sto trovando un casino di robe buonissime veramente dov'è? ma non mi servono muori ok manca forse un blocco se lo vedo ah si è un blocco lui eccolo attenzione oddio no c'è metano no metano ti prego ti prego metano no no metano no metano guarda io ti dico allora intanto mi uccido perché sono ma come ti uccidi? ero in un momento abbastanza però sai dove eri? dove eri metano? no ero nella mia isola a dire il vero però ero tipo eri? non mi piace eri no sei ancora lì ti vedo ciao metano guarda cosa fa ma cosa fai? ti sei ammazzato ma come non ti ho ucciso? no sono caduto nella lava no che fail guarda che il mio nucleo ti ripeto non è nemmeno bardato non lo voglio nemmeno bardare man sto arrivando eh si mi sa che stai arrivando si beh la lotta no 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 mi sono buggato mi sono buggato ecco adesso esci muori no no non sono uscito non sono uscito muori ero buggato tipo perché mi stava ritipando un solito punto boh non si ma qua non si riesce a mettere i blocchi guarda che roba non riesco a piazzare i blocchi nella tua isola si è maledetta ma anche nella è nel buco e vabbè che fatica raga che fatica che fatica allora no 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 sono nell'angolo sono nell'angolo sono nell'angolo sono nell'angolo mi posso salvare mi posso salvare mi butto non mi avrei mai ti ho avuto ho vita ero da mezz'ora senza vita metano metano guarda che è un disastro qua non ce la faremo mai guarda che io non ho più nulla ho un arco del tp lo ammetto non so nemmeno come levarti d'ossidiana nemmeno io ma guarda ti ripeto io non l'ho barata non voglio nemmeno barata non c'ho voglia proprio ma stai scherzando metano stai scherzando no sono serio man ma se ti dicessi che sono nella tua isola eh se ti dicessi che sono nella tua isola eeeh cosa ti devo dire sono morto perché perché sono no allora non ero nella tua isola lo ammetto però mi ci stavo tippando ora mi uscire tippo easy no no tec 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 dove sei tec come ci sei andato no no tec fermati tec e vince ed eccoci qua ragazzi alla fine di questa partita io sono stremato è durata 40 minuti qualcosa del genere non si possono far durare così tanto le cubo comunque ragazzi avete giocato lo stesso bene avete lezzato come si deve sono riuscito a vincere ma metano mi stava dando del filo da torcere comunque trovate il suo canale in descrizione e noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti